ciao a tutti amici grazie 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 ho visto che avete seguito in molti video sull'isola di Cerso e mi avete iscritto mi avete commentato grazie ancora adesso questa è l'ultima puntata vi farò vedere a bei posti da un nuovo punto di vista mi auguro che vi piaccia e vi rimando al prossimo appuntamento fra pochi giorni qualche settimana tempo di fare un nuovo viaggio e documentarmelo e condivido con voi grazie ancora un saluto a tutti e a presto ciao a presto 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 Grazie.